Sarebbero Michelle Unzichere e Maria De Filippi le candidate ad affiancare Gianni Morandi durante la 62esima edizione di Sanremo. Il cantante infatti sarà quasi certamente confermato alla guida del festival. TV, sorrisi e canzoni, domani in edicola parlerà approfonditamente della nuova squadra che calcherà il palco dell'Ariston. Il settimanale svela che le due prime donne in questione, non nuove all'esperienza del festival, sarebbero già state contattate. La Unzichere aveva affiancato Pippo Baudo nel 2007, la De Filippi, era stata chiamata da Paolo Bonolis a partecipare all'ultima serata nell'edizione 2009. Tra le due sembrerebbe la moglie di Maurizio Costanzo la più titubante ad accettare la proposta Rai, anche se qualche mese fa lo stesso Morandi aveva confidato, sarebbe bello fare Sanremo con la De Filippi, anzi è lei che dovrebbe fare Sanremo anche da sola. Grazie a tutti.